Sindaco Antonio Carlone, nasce Coscienza Civica presentata qua a Isernia, quali sono gli obiettivi del movimento e perché proprio questo nome Coscienza Civica? Perché ormai c'è necessità, occorre far sì che i molisani acquisiscano la cognizione che occorre rimboccarsi le maniche tutti insieme per uscire da questa crisi. Per farlo occorre un nuovo movimento che parta dal basso, parta dai cittadini normali, dagli imprenditori, dai professionisti, dagli amministratori locali che hanno già avuto esperienze, che sono sul territorio e che sanno che cosa significa amministrare. Quindi ecco il motivo per cui Coscienza Civica. Nasciamo qui a Isernia perché Isernia è uno dei centri dell'attuale maggiori per quanto riguarda la crisi che attanaglia questa regione. È il centro più grande dove si andrà a elezioni e noi vorremmo essere presenti su questa città appoggiando dei nostri esponenti, non nascondendo anche la possibilità eventuale di presentare una lista con il nostro simbolo. In conferenza stampa ha parlato di obiettivi a medio termine e a lungo termine, ce li può illustrare? Sì, innanzitutto partiamo dagli obiettivi immediati. Noi già da domani scenderemo sul territorio perché vogliamo sentire comune per comune quelle che sono le esigenze e quelle che sono le necessità per poter raggiungere uno sviluppo collettivo della nostra regione. Anche il nostro movimento non è un movimento definito nel suo organigramma perché proprio per questo andremo al primo congresso regionale ad ottobre e a questo congresso regionale nomineremo i rappresentanti, il coordinatore regionale, i coordinatori provinciali e otto coordinatori locali che saranno rappresentanti di altrettante aree della nostra regione molise. Quindi vogliamo appunto stare sul territorio. Gli obiettivi a medio termine ormai sono quelli delle prossime elezioni regionali. Noi vogliamo creare una proposta concreta, seria per la regione molise nel 2018 e siamo aperti ad accogliere gli interventi di tutti. Si è ben inteso, non significa questo fare incetta per raggiungere numeri che poi magari potrebbero essere anche i creatori di un'eventuale crisi. No, noi siamo convinti che ognuno può fornire delle indicazioni utili per questa regione e quindi saremo pronti ad ascoltare tutti. Poi insieme decideremo quale può essere la via migliore per questa regione. Ecco, c'è stata anche l'adesione di Massimo Romano. Che ruolo rivestirà all'interno del movimento? Massimo Romano è uno dei fondatori di questo movimento insieme a 20 persone, 20 persone che rappresentano un gruppo molto più nutrito e la conferenza stampa di stasera ha dimostrato che c'erano tante persone in più oltre ai 20 fondatori. È una persona che ha sempre dato tanto a questa regione, Morise, sia da consigliere regionale che da avvocato, prendendo le difese di tanti cittadini che hanno manifestato il loro malessere per determinate situazioni. Certamente Massimo Romano si colloca al pari di qualsiasi altro esponente di questo movimento come una persona che potrà dare tanto a coscienza civica. È plausibile che venga creata una lista anche di supporto a quella di Stefano Testa? Ne abbiamo parlato ed è anche possibile questo, nel senso che noi non vogliamo prescindere dall'immediata tornata elettorale. Si vota in 33 comuni, io sono sindaco di uno dei comuni in cui si tornerà al voto e quindi sicuramente dei nostri esponenti saranno presenti alle prossime elezioni comunali. Qui a Di Sernia Stefano Testa sta lavorando bene, oltre ad essere uno dei fondatori di questo movimento, con persone di idee per Isernia sta veramente lavorando bene e noi non abbiamo escluso anche la possibilità di appoggiarlo con una lista che porti il simbolo di coscienza civica. Il vostro movimento si caratterizza per essere apartitico, quindi in sostanza è aperto a tutti? Beh, è davanti agli occhi di tutti che la regione Molise, purtroppo, i partiti in regione non riescono ad essere più rappresentativi di quelle che sono le reali esigenze della gente. E quindi, lo dicevo prima, noi siamo aperti, non è più una questione di centro, di destra o di sinistra, è semplicemente, anche se poi la cosa principale, semplice ma principale, una questione di idee e di programmi. Occorre lavorare intorno a dei programmi perché solo se si lavora su dei programmi che hanno degli obiettivi certi e che possono essere anche misurati nel breve termine, nel breve non è un unico termine, a quel punto potremmo dare risposte concrete a Molise. E con che metodo sceglierete i candidati alle prossime regionali? Alle prossime regionali non ci siamo ancora dati il metodo, nel senso che, come dicevo prima, noi avremo un primo congresso che è quello di ottobre, in cui andremo a creare gli organi politici del movimento. In quel momento la direzione politica avrà ancora il tempo, appunto due anni, soprattutto per andare sul territorio con i nostri esponenti a capire quelle che sono le esigenze. In base a quelle esigenze si troveranno gli uomini, ma anche e soprattutto le donne giuste per poter rappresentare coscienza civica in regione.